Ma non si preoccupi, nel suo caso saranno dodici, ho capito. L'imputato è in aula? E purtroppo presente. Venga avanti. Chi è il suo difensore? L'oreio, avvocato Bortolò, un signor prezzore. Il solito. Bene. Lei conosce il capo d'imputazione. Articolo 640, 515 e 516 del codice penale. Su denuncia di Speggiorino Reste, proprietario del ristorante La Taverna del Buongustaio, lei è accusato di aver venduto una partita di mille scatolette di alimento per cani, spacciandole per gulascio di prima qualità. Cosa ha da dire a sua discolpa? Sono innocente, lo giuro. Ilustre, signor pretore, non c'è che un modo per sbottare la...